Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio di Smiths 4. Torniamo oggi a casa della famiglia composta da 50.000 cose, ovvero due sim, due gemelle e quattro cagnolini. Come potete vedere i cuccioli cominciano a girovagare un pochino per casa e questo potrebbe essere un gran problema, ma ho appena dato loro da mangiare, a quanto pare stanno gradendo. Quindi la cosa buona è questa, perfetto, abbiamo dei cani che si alimentano, direi che è perfetto. Riprendiamo però la partita e ho beccato un momento perfetto perché le bambine stanno dormendo, loro stanno bene, quindi me ne approfitterei perché in questo episodio voglio avere tanti, tanti simoleon ragazzi. Quindi per farlo voglio riprendere a scrivere in questo caso Amico Specchio e cominciare a dipingere tantissimi quadri. Ci serviranno tutti questi simoleon per fare un bel progettino che poi magari riusciremo a vedere già in questo episodio o magari nei prossimi, anche perché abbiamo 1071 simoleon, siamo poverissimi. Quindi in realtà quello che voglio fare è costruire una cosa nuova per questa famiglia e per farlo vorrei almeno avere un po' di fondo, quindi almeno sui 10-15 mila simoleon. Ci vorrà un po' per farlo, ma visto che abbiamo questo episodio per farlo, lo facciamo tranquillamente. E soprattutto me ne approfitto, come avrete detto dal titolo, per fare un po' di chiarezza e per parlarvi di quello che è successo negli ultimi video. Intanto vi ringrazio per tutto il supporto per quanto riguarda il video delle teorie. Mi piace molto farli, c'è dello studio dietro, sono dei video che scrivo, ma sono comunque avvalorati da fatti realmente accaduti, almeno quelli della famiglia Alberghini e dell'Engreb. Mentre, visto che mi avete chiesto anche di fare delle altre famiglie, beh, in quel caso lì ragazzi dovremmo inventarcele di sana pianta le cose, perché non sono tante poi le famiglie e i misteri che ci sono. Però io continuerò a studiare tutte le cose del caso e magari ne porterò altri. E intanto cominciano a piangere le bambine, ok. E allora facciamo Nutri con il biberon, cambia il pannolino sporco. Nutri con il biberon, non scherzavo, non tutto lui perché altrimenti è un guaio. Ecco, lo può fare anche la mamma, grazie. Nutri, allatta, cambia il pannolino e calma. Per favore, anche tu dovresti smettere di scrivere. Eh, questo è un guaio ragazzi, è un gran guaio, perché non mi faranno fare nulla di quello che devo. Vediamo un po' di riuscire a fare quello che dobbiamo. Intanto ci prendiamo cura delle nostre piglie, mi pare il minimo. Non so neanche se parla e passare d'età in questo episodio. Vedremo, vedremo. Intanto come va la bambina? La coccoliamo molto bene. Mentre lui ha fatto tutto, sì, coccola anche l'altra, così almeno dorme. Ok, siamo tutti tranquilli. E continua a scrivere, caro il mio Alessandro. Detto ciò ragazzi, continuiamo le chiacchiere e parliamo dell'altro video che ha fatto tantissime visualizzazioni, tanti mi piace e sono contento di come sia andato quel video, davvero. Ed è quello relativo a The Sims 5. Dunque voglio chiarire alcune cose ragazzi, perché ho ricevuto dei commenti un po' discordanti. Alcuni davvero sono rimasto un po' così. O meglio, ora vi spiego. Intanto mi si è anche dato dell'idiota, ma questo è, non importa, fa parte del gioco. Anzi, mi sono divertito e mi sono fatto una risata in tutto ciò. Ma non è quello il punto. Partiamo intanto da come nasce il video ragazzi. Così almeno voglio fare della chiarezza e in questo video appunto voglio spiegarvi tutto quello che è successo. Intanto, per chi conosce The Sims un pelino, e io credo di essere fra quelli, sa che ogni tanto c'è un nuovo capitolo. In questo caso ragazzi, la faccenda è un po' più complicata, perché ai tempi del rilascio di The Sims 4, gli sviluppatori avevano annunciato che dipendeva un po' dalle vendite, ma questo è un pochino normale. Se vedono che un qualcosa va bene, continuano la serie, ma non di The Sims di tutto in generale. Può essere un telefilm, un altro videogioco, eccetera, eccetera. Visto che The Sims 4 ha venduto tantissimo, e devo dire che ha un gran successo, meritato, secondo me, questo significa che probabilmente in futuro potrebbe esserci un altro capitolo. E qua, credo, siamo tutti d'accordo. Ovviamente ragazzi, quel video non si basa su delle fonti come i video su YouTube, perché per chi ha scritto sotto nei commenti che The Sims 4 è molto meglio di The Sims 5, e beh, non vorrei deludervi, ma The Sims 5 non è stato neanche mostrato un pelo del sopracciglio di un sim futuro. Quindi in realtà, come si può dire che è una cosa migliore di un'altra che ancora non conosciamo? Ecco, in realtà, non partite prevenuti ragazzi, non partite con le mani avanti, perché in realtà potreste anche ricredervi. E quindi, come dico nel video, vorrei appunto scoprire insieme a voi questo quinto capitolo, ma per primo per me, per me stesso, per capire se è qualcosa che mi interessa. E vorrei farlo anche per voi ragazzi. Quindi in realtà, vedere un eventuale sviluppo di un altro gioco ci farà capire se ci piace o no. Intanto questo però lo mettiamo nell'inventario. Lei stava andando a letto, ma ti attacchi, perché io voglio fare altri dipinti. Facciamo un dipinto fiducioso, visto che lo possiamo fare. Intanto tutti i cani sono stramazzati al suolo e stanno dormendo, però sto notando che il nostro balconcino funziona, perché credo sia andato un cucciolo a fare una caca di animale piccola. Esatto. Altra cosa ragazzi, ovviamente tutti siete molto legati di Sims 4, anche io lo sono, e la paura, se vogliamo, tra virgolette, quella che è un futuro capitolo potrebbe significare che questo verrebbe abbandonato, trascurato. Beh, se noi torniamo indietro, sappiate che quando è stato annunciato The Sims 4, secondo me, su The Sims 3, sono uscite le cose migliori. I migliori quartieri, le migliori espansioni, se pensate a Isola da Sogno, è stata rilasciata dopo l'annuncio di The Sims 4. E infatti The Sims 3 non è stato per niente trascurato, anzi, e soprattutto, è facile pensare che a The Sims non lavorino solo due gatti, quindi significa che probabilmente ci sono diversi team di sviluppo, uno che sta già lavorando a The Sims 5, uno che sta continuando a lavorare su The Sims 4, e se la vostra teoria fosse esatta, allora The Sims Mobile non doveva vedere la luce, perché anche The Sims Mobile, che sto giocando solo a livello 13, sono un po' nabbo, è fatto davvero molto molto bene, mi piace, mi sta piacendo, e però questo vorrebbe dire che allora trascurano The Sims 4, ora che c'è The Sims Mobile. Non è così ragazzi, anzi, The Sims 4 comunque ha una scaletta di DLC, di espansioni già dal suo sviluppo, quindi in realtà arriveranno le stagioni, probabilmente a novembre, perché comunque è un'espansione molto molto bella. E soprattutto, in tanti avete detto, che vorreste vedere gli stessi contenuti di The Sims 3. Ecco, qua mi trovate d'accordo in parte, perché io sono rimasto piacevolmente sorpreso da avventura nella giungla. La giungla non è mai stata implementata in The Sims in generale, e vedere qualcosa di nuovo, secondo me, è bello, ragazzi. È assolutamente bello. Se avessero ripatto le stesse papabili, stesse identiche espansioni del 3, a quel punto io gioco il 3. Anche perché se voi andate nello store del 3, potete notare che non è per niente un gioco abbandonato, perché costa ancora forse più del 4, ma soprattutto ragazzi è diverso. Ecco, quello che voglio mettere in chiaro in questo video è che The Sims si divide in capitoli che non hanno una continuità fra loro. È quello il loro bello. Cioè, The Sims 3, se io volessi iniziare un gameplay di The Sims 3, sarebbe attualissimo con tutte le espansioni, tutti i DLC, completo, ovviamente, rispetto al 4 che è ancora in fase di sviluppo, ma non vorrebbe dire che è meglio o peggio del 4, vorrebbe dire che è un The Sims diverso. Lo stesso vale per 1, lo stesso vale per 2. Non è, diciamo, un attacco al 4. Ecco, voglio anche chiedere questo. Quel video non era un attacco al The Sims 4. Anzi, potete notare, ho una serie inattivo da più di 200 episodi sul canale, quindi potete capire bene che a me piace The Sims 4. Personalmente, però, mi piacerebbe fra due anni giocare a un nuovo The Sims, perché comunque è giusto che sia così. È il corso delle cose. Questo è il mio parere. Poi, ragazzi, tengo a precisare anche la cosa forse più stupida, ma quella più realistica. Se The Sims 5 verrà rilasciato o meno, verrà sviluppato o meno, intanto le bambine parlano, è perfetto, ok. Al pannolino sporco. Dicevo, se questo dovesse essere rilasciato o meno, non è mica colpa mia. Cioè, prendetevela con gli sviluppatori. Ora, non è... Io ho fatto un video per spiegarvi quello che potrebbe succedere, visto i dati alla mano. Ecco perché vi ho portato i dati alla mano. Non sono quasi accampati in aria. Ecco perché vi dico, non date credito ai video di YouTube, o ai video che sono usciti dopo un anno di The Sims 5. Sappiamo tutti che The Sims non esce ogni anno. Sappiamo tutti che The Sims esce ogni cinque anni, in questo caso, visto i precedenti, e che hanno tutti la stessa peculiarità, quelle di uscire con un gioco base e poi espandersi con i DLC. Se vogliamo, The Sims potrebbe essere ritenuto il padre di un certo tipo di marketing, perché è stato il primo gioco che ha, come dire, implementato la politica di uscire con una base e poi costruire tutto attorno. Ecco, se vogliamo, The Sims quello è stato un po' un capostipite di quel tipo di rilascio di DLC, se vogliamo. Tanto lei non ce la faceva più, è andata a dormire. Va bene, dai, la graziamo, la facciamo un po' dormire, la nostra povera Sim, e poi torniamo a fare. Aspettate che però c'è Alessandro, che sta benissimo, quindi aspetta che ti faccio riscrivere, però viene a dare da mangiare ai cagnolini. Questo episodio, ragazzi, sarà un po' chiacchiericcio, dove cerchiamo di racimulare un po' di Simoleon. Spero vi piaccia. Anche perché davvero voglio essere chiaro con voi rispetto a quella faccenda, perché davvero ho letto dei commenti che, cioè, non capisco, davvero è un atteggiamento di chiusura, forse, su un qualcosa che ancora non si conosce, ragazzi. Ma non pensiate che The Sims 4 sia abbandonato a se stesso. Assolutamente no. The Sims 4 ha tantissimo da offrire. E vi dirò di più, ragazzi. Se dovesse uscire un The Sims 5, non mi stupirebbe, o meglio, non vi stupite, se mi vedrete storcere il naso. Ora vi racconto quest'aneddoto, visto che siamo in fase di confidenze, se vogliamo, in questo video. Beh, io vi dico che The Sims 4 io l'ho schifato fin dall'inizio. Quando The Sims 4 è uscito, a me faceva schifo. Sinceramente, non mi piaceva la grafica, i sim erano strani, erano, come dire, di pongo. Non mi piacevano i caricamenti, ho odiato il fatto che non ci fosse l'open world, ho odiato il fatto che non ci fossero tutti i contenuti che poi sono stati aggiunti, come le piscine, gli scantinati. Odiato tutto. The Sims 4 a me non è piaciuto. Ad esempio, quando c'è stato il passaggio dall'1 al 2, o dal 2 al 3 soprattutto, lì mi si è aperto un mondo. Ecco, lì, sinceramente, sono rimasto stupito piacevolmente. The Sims 3 è stato il gioco che mi ha preso sicuramente di più. Io sono rimasto estasiato dal 3. Mentre The Sims 4 mi ha convinto solo per quanto riguarda la modalità costruisci. Se io dovessi ora aprire un mondo di The Sims 3 e cominciare a costruire una casa, voi vi fareste grasse risate perché probabilmente non riuscirei più a costruire con quel metodo. Mentre con quello di The Sims 4 mi sono trovato subito a mio agio. Ecco, quello è stato un motivo che mi ha spinto a comprarlo, se vogliamo, il minore. Ma il motivo maggiore, ragazzi, è la fiducia. La fiducia che io ho dato a un brand che conosco da 20 anni. Quindi ho deciso di acquistare la Collector's Edition che non costa precisamente 10 euro. Quindi se avesse avuto dei pregiudizi non l'avrei acquistata, non avrei acquistato tutti gli LC. Io lo sto facendo per collezionismo e va bene, ci sta perché appunto sono legato al brand. Però devo dire che ora come ora, potete notarlo, ho circa 900 ore di gioco su The Sims 4. Questo vuol dire solo una cosa. Secondo me mi sono ricreduto, o no? Quindi a oggi io apprezzo tantissimo The Sims 4, mentre all'inizio non mi facevo impazzire. Probabilmente succederà la stessa cosa col 5, o magari no, chi lo sa. Però sta di fatto che il 5 sarà comunque una cosa diversa rispetto al 4. Non sarà paragonabile, non si può dire è meglio o peggio, o è il continuo, o il prequel o il sequel. No, sarà una cosa diversa, che se si vuole, si può acquistare. E qua rispondo anche a chi ha scritto che non vorrebbe The Sims 5, beh, lì ragazzi, vige la stessa regola di sempre. Ovvero, se un gioco si vuole, si compra, altrimenti no, intanto il cane è malato, quindi andiamo alla clinica veterinaria. Ma sì dai, lo portiamo da nostra sorella, così almeno lo curiamo bene. Quindi ragazzi sì, volevo solo fare un po' di chiarezza rispetto ai commenti, e davvero rassicurarvi sul fatto che The Sims 4 non sarà abbandonato, avrà tantissimo da dire ancora, anche perché è un successo, quindi figurarsi, io mi aspetto tantissimo da The Sims 4, davvero lo apprezzo tanto. Però, in fase di confidenza, vi dico che all'inizio non mi faceva impazzire. Ok, prenotiamo ovviamente la visita per il nostro cagnolino, ragazzi, e ora, adesso vi farò anche ridere, sto praticamente utilizzando i comandi di The Sims Mobile, scusatemi, adesso sono un po' impognato con quello, sono a livello 13, vi dicevo, sono anche un nabbo, però comunque ci sto giochicchiando. Comunque, in tutto ciò, ok, ecco qua la postazione veterinaria, registriamo Axel per curare la malattia, eccolo qua che arriva il nostro Alessandro, molto bene a registrare il cane, e ragazzi, poi, l'ultima cosa, e continuiamo con l'episodio, perché ne abbiamo parlato diffusamente, che The Sims 5 esca, quest'anno, ovviamente, basato su rumors, ragazzi, e sui dati. Io non sono sicuro, che quest'anno annunceranno The Sims, potrebbe, visto la storia del gioco, potrebbe anche, visto che gli sviluppatori avevano detto, che avrebbero un po' aspettato le vendite, potrebbe anche voler dire, che verrà slittato di qualche anno, magari, magari uscirà, non fra due anni, ma fra quattro, quello non lo posso sapere io, non lo potete sapere voi, però, sta di fatto che quel video, era comunque, una considerazione sui tempi, eccetera, eccetera, sono contentissimo, che vi sia piaciuto ragazzi, ma ci tenevo anche, a rispondervi, ho risposto un po' a tutti, nei commenti, e anzi, mi è piaciuto tantissimo leggervi ragazzi, è davvero bello, leggere i commenti, leggere le opinioni, ma soprattutto, vedere anche il confronto, ecco, quella è una cosa bellissima, però, ci tenevo, da parte mia, a chiarire, tra virgolette, il mio pensiero, perché magari in quel video, è stato molto molto schematico, molto molto, come dire, dati alla mano, senza metterci un pochino, di opinioni personali, ecco, in questo caso, in questo episodio, volevo comunque, chiarire delle cose, e rispetto a quello che penso io, io, ripeto, a me piacerebbe tantissimo, giocare a un nuovo capitolo, di The Sims, fra due anni, quindi, avendo il quattro, bello pieno, di espansioni ancora, eccetera, eccetera, perché è giusto che sia così, però, vedremo, chi viverà, vedrà, comunque, il nostro cane, non viene curato, ok, andiamo avanti con l'episodio, ora che abbiamo parlato, per i primi minuti, di The Sims 5, direi che possiamo andare, non ci possiamo permettere, o meglio, lo possiamo fare, ma resteremo davvero, con pochissimi simoleon, che mi servono per fare i quadri, quindi, in realtà, prenderemo le cure, un po' scrause ragazzi, il nostro Axel, si dovrà abituare, dovrà stare con il collare, per un po', mi dispiace, caro il mio cagnolino, lui invece ha sonno, ma devi tornare a casa a scrivere, perché mi serviranno, tanti, tanti dindini, e siamo tornati a casa, casa che ragazzi, probabilmente rifaremo, ve lo dico già, la voglio rifare in speed building, quindi probabilmente, lo speed building, di questa settimana, sarà incentrato, sul rifare questa casa, da zero, ovviamente, la prenderemo, o meglio, nello speed building, pronta, devo anche aggiungere le altre, in galleria ragazzi, se volete poi scaricarle, le trovate sempre nel mio idm9013, ma, ora, andiamo a scrivere, probabilmente, voglio fare una casa arredata, che però, con loro, compreremo vuota, e ci metteremo probabilmente, questi mobili, quindi ce li teniamo, non li vendiamo, e poi pian piano, l'arrederemo, durante il corso della serie, intanto questo, lo mettiamo nell'inventario, voglio capire un po', uuuh eccellente, e non ne abbiamo il tempo ragazzi, perché le bambine, piangono, ah, ok, sto pensando seriamente, di farle crescere, se anche avere due bebé, probabilmente, sarebbe anche peggio, di avere due neonati, in effetti, sospetto quello, ma, non importa, ok, cerchiamo di occuparci di una, poi dell'altra, ecco qua, che inizia a piangere l'altra, che bello, dio le papo, li accoppia, ovviamente, sono gemelle, quindi non mi stupisco di tutto questo, facciamo un bel calma, tutte e due, così almeno, stanno tranquille, le coccoliamo, le ha bisogno di divertirsi, eh, ti faccio divertire io, che era la mia simpaticona, che ha raggiunto il livello 2, di genitorialità, e siamo tutti tranquilli, direi che possiamo mettere, questo quadro, nell'inventario, così almeno, siamo tranquille, oh, no, aspettate, che lei si è sporcata, il pannolino, ok, forza, cambia il pannolino, a tua figlia, grazie, rapporto di diritti d'autore, sì, 108 simone nel giorno, sono davvero pochini, per quello che serve a noi, quindi mettiamo questo, nel, eh, perfetto, nell'inventario, facciamo un paesaggio, da 100, io vorrei anche, che cominciassi a farmi, dei capolavori, ora, non credo sia così, perché non ho massimizzato, anche se siamo quasi a livello 9, l'abilità di pittura, quindi ben presto, spero, comincia a sfornarmi, dei capolavori, perché appunto, vi dicevo, ci serviranno almeno, 10, barra 15 mila simoleon, per comprare, un nuovo lotto, e ormai, praticamente, vi ho spoilerato, quello che voglio fare, in pratica, devo comprare un altro lotto, con l'oro, perché voglio che l'oro continuino, a vivere di questo, quindi, di pittura e scrittura, ma voglio che abbiano, un'altra cosa, un'altra entrata, economica in famiglia, che però, non vi dirò ancora, dai, di solito, questi sono capolavori, quelli con gli alberi, di granite poles, non so se è vero, me lo sto inventando, però dai, eccellente, mettiamolo nell'inventario, poi diciamo alla nostra Elisa, di riempire la ciotola, perché non vorrei mai, che i cani schiattassero di fame, e possiamo continuare, a fare, un, dipinto da modello, modello, ma si dai, solo che in teoria, ora mi modella, qualcosa, che non voglio, beh potremmo fare, un dipinto di Axel, col collare, potrebbe essere carina, come cosa, vediamo un po' ora, cosa ci inquadra, la nostra visuale, possiamo fare, un dipinto alla culla, un dipinto al robot, beh questo potrebbe essere carino, dai, facciamo il robot, vediamo un po' quanto vale, il nostro, un progetto scolastico, che non ricordo neanche, a chi appartiene, Alessandro, ok, pensaci un po' su, cara, la mia visa, e poi buttati a capopitto, sulla pittura, di questo nuovo dipinto, intanto i cani stanno male, e anzi, me ne approfitterei, ora vediamo un po' come sta messo con il libro, molto molto male, e allora aspettate un attimo, perché voglio fare un bagnetto, per favore, fai un bagno, assolutamente, perché lo vedo sofferente Axel, mentre in tutto ciò, i cagnolini stanno bene, stanno dormendo, anche la loro mammina, che è Evie, mentre vi ricordo che Axel, non è il padre, e guardate un po' quanto è bello questo dipinto, tanto che io ne farei una copia, se non costasse farlo, e lo appenderei in casa, perché è davvero carino, questo mi piace, mi piace, e ovviamente ragazzi, nel nuovo lotto, ci saranno i quadri, della nostra Elisa, potrebbero anche esserci dei libri, ma sarà incentrato su dell'altro, ok dai, quasi finito, dai, sforami un bel capolavoro, da 5000 simoleon, te ne sarei davvero grato, grazie mille, vediamo un po', beh, lui intanto sta malissimo, no ma vai pure a dormire, caro Alessandro, intanto Luca ci chiama, lei invece, gli scappa, le scappa, scusatemi, ecco qua che va a fare il tutto, beh, 812 ragazzi, beh, in realtà ha fatto dei quadri carini, se vogliamo, comunque forse riusciamo a guadagnare qualcosina, beh, intanto vai pure a divertirti, mangia e divertiti, lezioni sul tratto, piantagrane, l'acchium piantagrane, è più difficile da addestrare, e puoi perfino incoraggiarmi in cattivo comportamento, ma anche no, ma anche no, direi che va bene, intanto le bambine stanno bene, e davvero non so se farle passare d'età in questo episodio, probabilmente ci prendiamo due episodi con loro due, quindi nel prossimo facciamo passare d'età le bambine, e facciamo il progetto segreto, che al momento è segreto, intanto papà, come stai? come stai? oh, hai quasi mangiato molto bene, non perdere tempo, perché tua figlia, ha bisogno di cure, quindi per favore, vieni qua e cura pure la tua bambina, eccola, qua ha raggiunto anche lui, livello 2 di genitorialità, e ovviamente, parte una, e parte anche l'altra, perché è giusto che sia così, altrimenti sono gelose l'una dell'altra, quindi per favore, ecco, cambia pure il pannolino, coccola, hai abbastanza, sì, perfetto, possiamo fare un bel dipinto fiducioso, e poi cominciamo anche a venderli, probabilmente, io farei anche un dipinto di cacca, perché potrei anche far, fortuna, vedrete che questo è un capolavoro, appena schiacciato la cacca, e infatti è sparita, secondo me, sparna un capolavoro, è inutile che, mandi via la puzza, secondo me, cara, la mia Elisa, questo è un capolavoro, perché ti sento davvero nell'aria, si sente la fortuna, non appena schiacciato la cacca del cane, vediamo un po' cosa ci sparna la nostra Elisa, se davvero esce un capolavoro, ragazzi, rido, perché sarebbe qualcosa di assolutamente epico, probabilmente un meme, vediamo un po', e di nuovo le bambine, vanno a piangere, oh, ok, che cos'ha la bambina? Cambiamo il pannolino sporco, calmiamo la bambina, lui intanto ha sonno, coccoliamo anche l'altra, così magari dormono, che cos'ha? Ha bisogno di mangiare, vediamo un po' cosa sta sfornando lei, va bene, brava la mia bambina che aveva fame, molto bene, coccola, per favore dormi, grazie, non ti chiedo tanto, ti chiedo di dormire, e poi lo chiedo anche a tuo papà, perché come vedete è bello bello stanco, quindi lo mandiamo qua a dormire, intanto c'è la nostra Eevee, che ha bisogno sicuramente di un bagno, quindi facciamo un bagno a Eevee, poi torniamo da basso, e vedo che Axel ha fame, quindi riempiamo anche le ciotole, e guardate un po', sono tutti morti a terra, molto bene, lui riesce a raggiungere il... perché sta andando a guardare i quadri, scusate, lui è morto di sonno, ecco, vai pure a dormire, grazie il mio Alessandro, molto bene, mentre lei legge, e beh, è bello quando i Sims ti danno retta, molto bene, e infatti li sta mangiando, ok, andiamo da mangiare a tutti, volevo fare un bagnetto, se posso, porta la clinica veterinaria, eh no, anche lei è malata, vai andiamo, e siamo tornati qui, quindi registriamo Eevee per farla curare, dire che è il minimo, ok, speriamo arrivi qualcuno a curarla, speriamo bene, speriamo presto, pare non essere il nostro caso, eh, guardate un po' lo studio, beh, mi piace tanto la clinica veterinaria, dobbiamo anche tornarci ragazzi, con la nostra Erika, che vedo, e ha bisogno assolutamente di soldi, per andare avanti, quindi, nei prossimi episodi, torneremo alla clinica veterinaria, ma dal punto di vista del veterinario, credo sia una cosa buona, anche perché, potremmo anche vedere le nuove interazioni, relative alle malattie dei roditori, che appunto, non credo si curino nella clinica veterinaria, propriamente, ma, c'è bisogno di venire qua, per chiedere delle informazioni, è molto molto interessante, la dinamica delle malattie dei roditori, è un'aggiunta particolare, che voglio vedere nei prossimi episodi, anche perché, il nostro piccolo Nicola, sì, ha un piccolo riccio, quindi, potrebbe, in teoria, contrarre la malattia, ma, ne parleremo poi, intanto, il nostro cane, il nostro gatto, il nostro cane, scherzavo, eccolo qua, lo sta curando, molto bene, anche per lei, scatta, la cura scrausa, ragazzi, perché altrimenti, davvero, non riesco a mettere da parte, i simone necessari, e soprattutto, se non ricordo male, con la coda dell'occhio, purtroppo, ho visto la barra, della cassetta delle lettere, alzata, significa, che probabilmente, ci sono le bollette da pagare, ma spero, di essermelo inventato, prendi la posta, no, non c'è nulla da pagare, c'è qualcosa, però, da, ok, va bene, intanto, voglio capire un attimo, beh, lei intanto è tesa, perché dovrebbe mangiare, e questo qua, ormai è andato a male, quindi, ripuliamo questo, voglio vedere se è un capolavoro, ragazzi, no, però, eccellente, perché credo, non abbia massimizzato, la, la sua abilità di pittura, però, siamo quasi vicini, ormai, a fare dei capolavori, non sarebbe male come cosa, intanto, apri, dovrebbe esserci ancora un po' di torta, sì, allora, prendiamo un pezzo di torta, e fin tanto che mangiamo, io vorrei divertirmi, ecco, magari guardiamo un film, fin tanto che mangiamo, mentre lui, potrebbe mangiare, visto che lo dovrebbe anche fare, scherzavo, quella era della nostra Elisa, e magari anche lui guarda un po' il film, fa zapping, vediamo un po' di cercare, di rimettere un po' a posto i loro bisogni, quanto vale questo 460, lo mettiamo nell'inventario, che sta facendo, lei stava andando a lavarsi, e abbiamo la possibilità di fare, un bel dipinto impressionista da 100, mentre lui, come sta, lui sta benissimo, vorrei capire, però, come sta messo con il libro, riprende a scrivere il gioco, perché poi vi ricordo anche, che gli dobbiamo mandare il copendio, altrimenti poi non guadagniamo nulla, e abbiamo un bel po' di cose da fare, amico specchio è eccellente, quindi siamo tranquilli, per fidere selvaggio del cuore, no, questo non lo abbiamo scritto noi, però questo è buono, eccellente, ora voglio capire anche, a che livello è la sua abilità di scrittura, ma credo sarà giochi con la nostra Elisa, e infatti anche lui è quasi a livello 9, ma ovviamente, tutto questo viene interrotto, dal pianto di una neonata, alias nostra figlia, che piange, ora aspettate un attimo, perché ora cambiamo il pannolino, e calmiamo, e appena sente la sorella, guardate un po' che attacca l'altra, guardate, aspettiamo un paio di secondi, e vediamo un po' quanto, ci mette l'altra a partire, perché vanno di pari passo, io farei un bel, cambia pannolino tattico, e magari la calmiamo, così almeno dorme, preventivamente, ormai mi sono ridotta a questo, pur di non sentirle, lo faccio prima, intanto, cerchiamo di terminare il dipinto, e poi li vendiamo tutti ragazzi, vediamo un po' quanto abbiamo raccimulato, da questa giornata, da questo video chiacchiericcio, e capiamo un po', a che livello siamo appunto, con i simoleon, perché vorrei poi capire, quanto tempo dovrò impiegare, off camera ragazzi, perché a questo punto, starà off camera, a fare dei dipinti, e dei libri, e quando avremo, nel prossimo episodio, ve lo dico già, partiremo con, la bambina, che ha il pannolino sporco, sì ragazzi, nel prossimo episodio, io le faccio passare d'età, ve lo dico già ragazzi, ok, torniamo a scrivere, diciamo nel prossimo episodio, partiamo comunque, da una buona base, almeno 10.000 simoleon, se riusciamo, magari cercherò, di fare i conti, lasciare tutti i dipinti, magari di bello, quello con gli ara ragazzi, uno dei dipinti migliori, secondo me, dicevo, cercherò di fare dei conti, quindi ci lasciamo tutto, nell'inventario, e poi nel prossimo episodio, vendiamo tutti i quadri, contemporaneamente, e poi facciamo quello che dobbiamo, oh ragazzi, primo capolavoro, della nostra Elisa, 1125 simoleon, ecco, anche questo lo mettiamo nell'inventario, molto bene, aspettate che lei è stanchissima, che fa? Va a guardare la televisione, no scherzavo, sta andando a letto, eh beh sì, ci sta, ci sta, era davvero stanca, ora voglio capire come sta lui, con il libro, beh, è quasi finito eh, eh però, non riusciremo, perché la bambina, ovviamente, partita l'altra, ecco, facciamo così, facciamo quello che non scherzavo, ecco, va bene, poi magari facciamo, no l'ho già fatto, nutri con il biberon, sì, e allora facciamo un coccola, l'altra invece dorme, per fortuna, per fortuna hanno un carattere un pochino diverso, a quanto pare, terminiamo di scrivere, eh, il nostro gioco di Lendler, e aspettate però, ho visto delle scintille, ok, no pensavo che il pc fosse rotto, ah no, il piatto che sberluccica, ok, va bene, pensavo fossero delle scintille da pc, spero di no, perché, non ho neanche i soldi per ripararlo, pensate un po', intanto lui continua a scrivere, molto bene, e a questo punto, mandiamo tutto al copendio dei libri, perfetto, ha finito, ha finito, no, eh, per favore, aspetta prima di andare a letto, facciamo pubblica, no, vendi a un editore, dovrebbe essere meglio, eccellente, best seller ragazzi, questo ci farà fruttare, come vedete, cominciano a fare, capolavori e best seller, quindi cominciamo anche a guadagnare un pochino, in tutto ciò, il cane è affamato, non capisco perché, perché anche voi vedete, che, eh, tutto è, come dire, ok, chiamiamo Lucky, che aveva fame, però come vedete, è tutto pieno, quindi non capisco dove sta il problema, ma non importa, mandiamo lui a letto, mentre lei ha recuperato un po' il sonno, sì, e allora, diciamo alla nostra Elisa, di venire qua a mettere il nostro torre, è affamato, ma, ti dico anche che la strada è molto molto facile, quindi per favore, ecco, ma no, riempiendo la ciotola di cibo, no, possiamo fare un qualcosa, tipo, chiamo all'animale per mangiare, chiamiamo Thor, perché appunto non ce la fa, eccolo qua che arriva, ora, vendiamo tutti i dipinti di oggi, quindi facciamo così, e guadagniamo così, 1900 simoleon, mentre qua ne abbiamo ben 5, che valgono 2400, uh, siamo a 5000 simoleon, quindi dai, non è neanche tanto male, pensate poi che arriveranno anche i diritti d'autore, dei libri, abbiamo anche un best seller, quindi probabilmente riusciamo anche in tempi brevi ad avere, sì, almeno un po' di fondo, se poi dovessi avere qualche fondo in più, quindi qualche simole in più, io non m'offendo, così almeno possiamo cominciare a costruire quello che voglio, però dai, stando a FK, a un po' di tempo, direi che possiamo racimulare la somma che ci servirà, per farvi vedere cosa ho in mente per questi due sim, detto ciò ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto, abbiamo chiacchierato un sacco, spero di essermi spiegato bene, di aver chiarito alcune cose rispetto al video, che davvero vi ringrazio per aver visto ragazzi, tanto supporto, e sono molto molto contento, però davvero ci tenevo a dare un mio parere personale al tutto ciò, e ovviamente abbiamo anche passato un episodio di, come dire, preparazione al prossimo, ovvero cercando di fare dei dipinti e libri, per guadagnare qualcosina, ma direi che per questo episodio è tutto, io spero che vi sia piaciuto, e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale, e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate, trovate come sempre il pulsante per iscrivervi agli altri due video, io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima, e vi dico ciao a tutti!